Buongiorno a tutti, un grande saluto dalle 34esime giornate cardiologiche torinesi. Siamo qui con il professor De Ferrari e il professor Rinaldi, i due direttori del congresso. Secondo voi, quali sono gli highlights e le cose che dobbiamo portare a casa da questo congresso? Beh, innanzitutto lasciatemi dire che è stato un congresso di grande successo. Si torna ad avere una grandissima partecipazione di persone che vengono proprio a vedere le novità. Vengono ad imparare, vengono ad assorbire, direi, cultura da dei grandi relatori che abbiamo avuto l'opportunità di avere. Senza dubbio le due sessioni del mattino di venerdì sono state, direi, estremamente importanti. Nella prima abbiamo avuto un update sulla importanza dell'intelligenza artificiale in cardiologia in generale e una affascinante relazione del professor Lerman della Mayo Clinic sulla possibilità, con una piccola registrazione di pochi secondi su un smartphone, di identificare i fattori di rischio per cardiopatia ischemica, identificando caratteristiche con il machine learning, quindi con l'intelligenza artificiale, che aumentano fino a 5 volte, pensate, 5 volte il rischio di avere una malattia coronarica nei tempi successivi. Ed effettivamente apriamo quindi un mondo che non pensavamo neanche di poter conoscere, quello di identificare pazienti a rischio, ma anche pazienti con rischio di scompenso, semplicemente facendo loro vocalizzare, per esempio, un banale AA. Noi eravamo abituati a dire al paziente DICA33, adesso dovremo abituarci a dire al paziente per favore DICAAA nel suo smartphone e poi noi gli diremo qual è il suo rischio di scompenso cardiaco. Davvero credo un tema affascinante. Molte cose, secondo me, dal mio punto di vista, dal punto di vista di un cardiochirurgo, un'evidenza sempre crescente della bontà delle riparazioni valvolari, si è parlato molto di riparazione valvolare mitralica nelle malattie degenerative, si comincia a parlare finalmente di riparazione della valvola ortica nella insufficienza ortica pura e questo è una metodica, un intervento con i nuovi device che abbiamo a disposizione che probabilmente cambierà la nostra pratica clinica. Un'altra cosa molto interessante è mettere a punto delle strategie di insieme, quindi ABEN SPOC, che finalmente e in maniera decisa, dopo tanti anni di tentativi, diminuiscano la mortalità dello shock cardiogeno. Abbiamo visto molte forme di assistenza in questi giorni, soprattutto le assistenze a medio termine, a breve termine, c'è molto da lavorare e con un sistema ABEN SPOC ben strutturato, soprattutto in questa regione, potremmo fare molto molto meglio. Un'altra sessione direi indimenticabile è stata la sessione sulle aritmie genetiche. Pensate che abbiamo iniziato con il professor Brugada, Joseph Brugada, che raccontava la storia della malattia che porta al suo nome, che ha scoperto 30 anni fa. Il primo paper è del 1992 e ci ha raccontato i 30 anni di scoperte su questa malattia. È ancora quello che rimane, naturalmente, da scoprire. Su questo argomento poi c'è stata una relazione del professor Pappone che ci ha portato davvero nel futuro sulla possibilità che la malattia di Brugada non sia una malattia del semplice ventricolo destro, ma sia una malattia anche ovviamente del ventricolo sinistro, ma una malattia addirittura sistemica, che ci sia un ruolo di molti geni in più di SCN5A, che rimane quello più conosciuto, moltissimi geni in più, che sia addirittura una malattia sistemica, legata al sistema nervoso autonomo, legata all'infiammazione, legata alle comorbidità. Una veramente relazione futuribile che ci fa riflettere su quella che è l'ampiezza delle conoscenze della cardiologia e l'ampiezza del futuro. In questa stessa sessione abbiamo affrontato con dei grandi esperti la ripolarizzazione precoce, la sindrome del cuti lungo e la sindrome del cuti corto. Un'altra cosa che ci portiamo a casa da queste giornate cardiologiche è che siamo in una fase iniziale molto interessante della terapia transcatetere sostitutiva mitralica. Per il momento abbiamo approcciato la mitrale, intendo come sostituzione, solo tramite approccio transapicale, con una procedura ancora piuttosto invasiva. Ecco, mi aspetto l'anno prossimo di essere qui a parlare di procedure transcatetere di sostituzione valvolare mitralica. Siamo sempre più vicini, la tecnologia ormai c'è, si tratta di iniziare a lavorarci. Come voi sapete le miocardite sono naturalmente un po' di moda a seguito della dimostrazione che il vaccino e il covid aumentano la probabilità di avere una miocardite. Abbiamo confermato questa correlazione, abbiamo ricordato che il rischio di avere i miocarditi e per i carditi, peraltro da covid, è ben dieci volte più alto del rischio di averlo da vaccino e quindi il vaccino rimane una protezione anche contro i miocarditi, non solo contro tutte le altre complicanze da covid. Abbiamo fatto il punto sui criteri diagnostici, i criteri terapeutici e i criteri prognostici nelle miocardite. Infine, un'enfasi particolare è stata data una nuova categoria di pazienti con miocardite, cioè pazienti che hanno miocarditi recidivanti, ma in realtà sotto hanno una cardiopatia infiammatoria, in particolare delle cardiomiopatie legate a mutazioni del desmosoma, tipicamente per esempio della desmoplachina, una categoria di pazienti che stiamo imparando a studiare e che veramente merita tutta la nostra attenzione. E naturalmente abbiamo delle novità importanti anche per i cardiologi che si occupano di interventistica. Da un lato abbiamo studiato e discusso insieme quali sono le nuove opportunità di trattamento per cutaneo, in particolare sulla valvola tricuspide. Voi sapete, la valvola una volta chiamata dimenticata, è adesso invece al centro dell'attenzione dei cardiologi più avanzati e anche dei cardiochirurghi naturalmente, ma per quanto riguarda i cardiologi sono nuove e affascinanti possibilità di intervento per cutaneo per migliorare in particolare l'insufficienza valvolare ed eventualmente sostituire la valvola tricuspide. E infine, sempre per i cardiologi interventisti, vi è stata una bellissima lettura del professor Marco Valgimiglia, autorità mondiale nel campo dell'antiaggregazione piastrinica, che ha discusso l'opportunità della doppia terapia antiaggregante dopo sindrome coronarica acuta e l'opportunità di pensare a una descalation di questa terapia. In altre parole, lui ha proposto che in alcune circostante less is more, cioè si potrebbe tranquillamente ridurre la terapia antiaggregante ottenendo un miglioramento importante e significativo del rischio emorragico senza pagare il prezzo di un aumentato rischio trombotico. Una rivederci al 2023, quindi? E una rivederci con degli argomenti che in futuro prevedo ancora più complessi. Abbiamo visto un paio di casi di terapie associate mitrale più tricuspide, tutte transcatetere. Ci aspettiamo l'anno prossimo di vedere l'applicazione di corde tendine transcatetere, quindi non più con accesso transapicale ma con accesso totalmente percutaneo e questi saranno gli highlights dell'anno prossimo nella nostra sala ibrida. Dopo l'entusiasmo di queste giornate siamo più che mai convinti dell'importanza di organizzare convegni come questo di grande cultura, di grande capacità di aggiornamento e vi vogliamo tutti presenti l'anno prossimo alle 35esime giornate cardiologiche torinesi. A presto!